Autori in piazza è al settimo anno, è una rassegna di libri, sono esclusivamente presentazioni di libri. Siamo riusciti a non bloccarci durante la pandemia, per una serie di coincidenze siamo comunque riusciti a fare la manifestazione. E autori da tutta Italia, di case editrici diciamo grosse tipo Mondadori o Garzanti fino a case editrici più piccole, abruzzesi. Abbiamo il 16, Grazia Di Michele che sta al suo terzo libro, Grazia Di Michele non ha bisogno credo di presentazioni. Il 23 abbiamo Vittorio Macioce e Pierdante Piccioni che è l'autore di Doc, la serie televisiva con Argentero. Nuovi nomi abbiamo Rossano Orlando, il 15 con anteprima nazionale. E il 24 Miriam D'Ambrosio con Folisca che è il suo primo libro. Il digitale non prende il sopravvento sulla lettura dei libri, i libri continuano ad essere letti, ad essere sfogliati. Noi proviamo ad offrire tutta una serie di libri molto diversi fra loro. Per esempio il martedì abbiamo un libro dell'Oepri che è la storia della disco music. Quindi cerchiamo di avvicinare più lettori possibili ai libri. Grazie.